e bella pescatori buongiorno questa mattina pescata diversa dal solito in uno spot che avete visto in un altro video similare a questo questa mattina infatti siamo a feeder in quella che è la bellissima cornice del lago di corbara stamattina estremamente ventoso e l'acqua è piuttosto turbida quindi vediamo un po come gira siamo in compagnia dei grandi angler tube niche e auree siamo pronti siamo carichi vediamo che ne esce e si comincia postazione da feeder la canna anche se da method e oggi non penseremo a method la method f1 mutatura molto semplice pasturatore da bigattino e ciuffetto di bigattini 15 centimetri ci ho messo due salvano di una girellina tripla il mulinello e il chieres iniziamo ai terminati in canna o 1 0 18 in terminale 0 14 il pasturatore da 40 grammi perché c'è questo vento che mi darà un po fastidio quindi iniziamo subito a riempire di bigatti inizia da fare la nostra azione di pasturazione e vediamo un po come vira la giornata 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 un poichon Grazie a tutti 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 E' bellissimo lei Entrati gli aspi E' anche per me il primo affiotto della giornata Guarda questo Si incastra tutta una pinna Siamo presi? Non lo so No, non mi pare Sì, io ho capito come No, io devo vedere qua, sono indietro Sta sta sta, sta sta No, no, resta lì, resta lì Ok, ok, ok No, non era il mio Il mio è partito a destra, al tu c'è la via a sinistra Certo voglia Sto rotto 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 Sto rotto